Allora, vince il premio del pubblico del concorso 48 ore 2015 ottava edizione concorso concorto contorto No, ascolta, fai bene la pianta o cazzeggiamo? Cazzo scusa Fermi tutti, a me viene in mente un giostradio che guida il camioncino della vostra dove ci sono le bocce per pescare i pesci che al posto delle bocce però ha delle bottiglie e dentro le bottiglie al posto dei pesci ci sono dei cervelli Una scena simpatica di un drone Sì E' anche la scena di un drone, è vero Sì, il drone è vero Sì Sì Fa paura il spin, mi taglia la testa sto robu Sì 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 Praticamente Non ho capito cosa vuoi fare, vuoi fare la storia di noi Nooo Ma sei sicuro di voler fare sta roba? No, no, ma io Ma sì, ti devo rispondere io Vabbè, ma ti ho detto che la faccio solo io, volevo dire che faccio solo io questo direttamente Vabbè, no, puoi dire una battuta sola, c'è una scena di una battuta sola Non sto capendo più che cazzo Sto me recitando Bravo, 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 bravo Cazzo che bravi, lascia le la Buonissimo Botta la risposta, botta la risposta, non stavo più capendo Ho avuto veramente paura Non so, mi so di no Cazzo, ho avuto veramente caca Dovevo ricordare io, dovevi dire no, del noi che giriamo il corto nel corto Eh quella, aveva mai detto dove l'abbiamo finita Dico le robe, leggete quelle robe Dovi farlo nel corto, all'interno del corto, prima del corto Boom 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 Hai pronto Pippu? Vado? Sì Via Via, via, via Yes Speniamo bene